Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, a questo nuovo trailer Reaction Analysis dedicato a Ellie Sass. Uno dei titoli che forse lo ricorderete e si era mostrato durante lo State of Play di alcuni giorni fa. Il gioco era stato annunciato un paio di anni fa, poi era scomparso e poi riapparsi in una forma decisamente interessante. Adesso hanno pubblicato un nuovo trailer commentato di 15 minuti, quindi bello ricco, in cui mostrare un po' alcune delle caratteristiche principali dell'esperienza. L'esperienza sembrava molto interessante, questo action-adventure in terza persona, con questo mood quasi horror apocalittico con i mostri in cui tu devi combattere con il tuo robottino, affrontando all'arma bianca con i superattacchi. Era molto strano, ma era effettivamente molto intrigante, sembrava avere carisma, quindi direi di non perderci in chiacchiere e cominciare. Ma prima, mi raccomando, iscrizione al canale e un bel pollicione in su per far felice il dio algoritmo che tutto sa e tutto vede! Partiamo. Quindi, signori, 3, 2, 1, via! Ok. Ok. Mi è piaciuto. I sottotitoli sono tradotti in automatico, eh, ve lo dico. Ok. Ah, 2025. Non era stato... non l'avevano detto l'anno. Perfetto. Buono, buono. Ok, quindi un team comunque con la sua esperienza. Perfetto. 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 Sta parlando un po' di come si lavorava il passato e questo gli ha permesso di crescere, di poter lavorare a un gioco ancora più grande. ad Ea, ok. Ea. Perché ricordiamoci che il gioco narra di questo paese fittizio in guerra civile, in cui a un certo punto arrivano i mostri. Quindi la nostra madre ci ha fatto scappare, così che potessimo avere un'amica migliore, però stiamo voluti tornare per cercare di capire dove si trovano i nostri genitori. Graficamente non è male, però devo dire che la pioggia sembra veramente che stia soltanto davanti allo schermo. Cioè, sembra proprio finta la pioggia. Comunque, 2025, il gioco è in alfa, c'è scritto. Diamogli tempo, ecco. Diamogli tempo. Oddio. Particolare come sistema di salvataggio. Molto arcade. Beh, l'aveva detto che volevano tornare un po' a una struttura arcade anni 90. Effettivamente era molto arcade. Graficamente non è male. Sembra, questo personaggio mi ricorda quasi uno dei personaggi timbartognani con gli occhi molto scavati, molto incavato nelle fossette, le guance magrissime. Ok, quindi tu hai delle conoscenze generali che puoi utilizzare a tuo vantaggio per parlare e parlando ottieni nuove informazioni per l'investigazione. Ok, quindi ho già capito dove vuole andare a parare. Questo sarà un gioco che invece ti lascia un po' a te stesso. Rispetto ai normali giochi di oggi che ti prendono per mano, questo probabilmente vuole invece lasciarti andare per la tua strada e risolvitela da solo. Mi piace come ragiona. Devo dire che mi piace un sacco come ragiona. Dice, non c'è nessuna vera scoperta perché alla fine tu stai seguendo un indicatore sulla mappa. che ti ha dato alcune informazioni. Quindi tu devi utilizzare la bussola e le informazioni che hai ricevuto per capire dove devi andare. Non hai una minimappa. O magari la mappa ce l'hai ma non hai degli indicatori. E' più organico, più realistico. Bisogna stare attenti perché se diventa troppo dispersivo rischi che poi il giocatore sia a noi. E la bravura sta nel trovare la via di mezzo che funziona per tutti. Però mi piace come filosofia. Mi piace molto la filosofia del ti lasciamo scoprire, tu trovi i tuoi indizi e poi da lì devi arrivare all'obiettivo. Mi ricordo un po' che era Call of Tulu, mi sembra, che ti davano le informazioni sulle strade e poi tu dovevi capire dove andare incrociando le strade sulla mappa. No, era The Sinking City, non Call of Tulu. The Sinking City. E quindi te lo sta proprio dicendo e se hai lasciato effettivamente a te stesso non ci sono neanche consigli. Tra l'altro ha detto il protagonista non è che a un certo punto si inizia a parlare per dirti forse dovrei fare questa cosa. Ok, ha un drone. Quindi qui c'è stato un taglio del gioco e adesso ha tutta questa attrezzatura. Mi piace, non lo so, mi piace l'energia che evoca il director, mi piace anche quello che sto vedendo in game. Quindi per completare il puzzle, anche in questo caso non è immediato, devi capire te come risolverlo esplorando la mappa circostante. Trovi tutti gli indizi, li unisci insieme, capisci quello che devi fare e vai avanti. Mi piace questo approccio comunque hardcore. Più hardcore poi. Sì, hardcore che non vuole prenderti per mano. È una cosa che raramente si vede, però di nuovo è pericoloso perché quando fai un gioco che costa devi venderlo a tanta gente. Se fai un gioco che vuole essere troppo complesso rischi che la massa non lo compri e il gioco fallisca. Per questo dico che la bravura sta nel trovare la via di mezzo. D'altro vedo quelle immagini dietro di lui con quella testa gigante. C'è un altro aspetto importante che sarà il combat, dai. Ovviamente. 50% esplorazione e 50% combattimento. Ok. Il giusto bilanciamento. Ok. Che belli i movimenti così strani. Mi piace, sono molto... Sembrano dei ballerini. Sembrano cose dei ballerini. Ok, non è troppo facile, non è troppo difficile. Il design mi piace da morire. Delle creature mi piace da morire. Ci stanno varie armi, vedo le abilità. Vedete, è comunque tecnico perché con tanti nemici diventa un casino e devi stare attento e gestirtela. Però non è quel tecnico in cui non puoi andare all'armi a muso duro. Puoi comunque combattere con le abilità. Ci sono tante abilità del drone. Mi piace un sacco, ragazzi. Porca miseria se mi piace un sacco. Mi preoccupa un pochettino questo effetto che è voluto. Del rallenty ogni volta che colpisce un nemico. Che l'abbiamo visto in tanti giochi e non mi ha mai fatto impazzire al 100%. Per esempio, Stellar Blade ce l'aveva. Nulla di grave, per carità. Però è un qualcosina che non è che mi faccia impazzire. Che sono le finissi. Ci sono le finissi. Ok quindi Cappy che sarebbe il drone E a tutti gli effetti un companion A cui puoi dare degli ordini Per semplificarti i combattimenti Tipo distrarre i nemici E gli scatti, i salti Ma comunque è abbastanza frenetico Sembra già molto solido Tra l'altro il gioco E' ancora sporco si vede Però Cioè per essere un alfa non male Veramente non male Ok 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 qui puoi trovare tutti gli indizi Le informazioni E sei te che devi ricollegare tutto Che io potrei veramente perdere Per chi apprezza questo tipo di prodotto Potrebbe essere veramente la goduria Per chi non apprezza questo tipo di libertà Potrebbe essere veramente l'inferno Ok il datapad che funziona come una bacheca In formato digitale anni 90 Tra l'altro con tutti i personaggi può fare il commercio Che cacchio è quello Ok Mamma mia Ma che bel Che bel mood Che bel mood Quindi ci sono un sacco di cose che puoi scoprire per conto tuo Semplicemente esplorando il mondo di gioco Giustamente dice Persone piccate durante una guerra civile Quindi dice Hai trovato l'albero Ok Ok quindi lui dice Questa strada l'hai fatta te Perché hai visto l'albero E ti sei avvicinato Hai trovato un oggetto Quell'oggetto potrebbe servire In tutta una serie di potenziali Investigazioni future Che potrà aiutarti Per raggiungere nuovi obiettivi Mi piace questa libertà E questo senso di Questo senso di filo imminente Il gioco presenta dei dungeon A tutti gli effetti Perché vuole essere una lettera d'amore Per i giochi anni 90 Oh Oh Ragazzi Ragazzi questi hanno i miei soldi Questi hanno i miei Io lo sento Sento il portafoglio che vivra Ve lo dico La storia che va Che c'è prima della storia Ecco anche sulla storia Sarà molto importante fare un bel lavoro Quello che sta dicendo Mi piace Perché dice Volevamo creare un gioco Con Una narrativa molto peculiare Che puntasse tanto Sulla storia Sul mistero Guarda che roba Cioè se io entro qua dentro Dammi di più Dammi di più Te lo dico Dammi Con i cavalieri morti Eh bastardi Chissà che è Quell'affare Non era neanche il primo Esce da tutte le parti Cioè aveva una voce bellissima lui comunque Magari avessi una voce come la sua Secondo me Secondo me questo gioco arriva anche su Switch 2 Non lo può dire Però secondo me Se Switch 2 sarà sufficientemente potente Magari con qualche piccola accortezza Lo fanno arrivare anche su Switch 2 Minchia Minchia ragazzi Sembra veramente Ma veramente Ma veramente figo Come dicevo È un titolo un po' a metà Che vuole come dicono anche loro Vuole fare un po' esplorazione Un po' combat Vuole offrirti molta libertà Vuole lasciarti libero di andare in giro Non vuole darti troppi guide Non vuole darti troppi consigli Vuole E puntare tanto su un sistema Degli anni 90 Quindi dove era il giocatore Che giocava Scopriva E affrontava i problemi di turno Affrontava dungeon Raggiungeva luoghi inesplorati E li scopriva cose Che gli potevano servire Per altre cose ancora Il tutto poi chiaramente sarà sicuramente Strutturato bene Per funzionare Al giorno d'oggi Ho visto carisma Ho visto carisma Ho visto carisma Ho visto solidità Ho visto un bellissimo mood E L'incipit narrativo Legato a questa idea Del Vogliamo raccontare Una storia Che narra di qualcosa Che successe Prima della storia stessa È una frase È una supercazzola gigantesca Che però Mi ha preso Che però ce l'ha fatta Bravi Sono curioso Sono molto curioso Sembrava anche A un buon livello Vabbè chiaramente Erano comunque Nonostante fosse una parte Di gioco alfa In alfa Quello che hanno fatto vedere Sembrava Bello solido Il combat system Sembrava solido E divertente Graficamente Non appareva Affatto male Nonostante si vedesse Che era ancora sporco Insomma si vedeva Che c'era del lavoro da fare Però grazie al cazzo Esce nel 2025 Più che altro Se esce nel 2020 Io mi aspettavo Io temevo Che uscisse nel 2026 Almeno Perché Nel trailer Dello state of play Non c'era neanche Un anno di uscita E invece no Daglie Sono felice Sono veramente felice Sono un pochettino Preoccupato da Nacon Perché Nacon Nonostante non sia Lo sviluppatore Ma è soltanto L'editore O il distributore Sta di fatto che Quando c'è di mezzo Nacon Ci possono sempre Essere di mezzo Degli impicci Sempre 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 Alle volte Tira fuori Dei gran prodotti Alle volte Proprio no Alle volte Mette le mani Su dei prodotti Capendo nel valore Alle volte Mette le mani Su dei prodotti Pensando che ci sia valore E poi In mano Non stringi nulla Che dire gente Lo guarderò Veramente Con grande interesse Fatemi sapere La vostra Vi ha intrigato Questo trailer Cosa Cosa ne pensate Cosa ne pensate Dopo aver visto Quello che avevo Quello che avevo Da dirvi Per oggi Io vi ringrazio Per essere passati Spero Che vi siate divertiti Spero Ancora più importante Cosa ancora più importante Che vi abbia intrigato Perché Effettivamente Questo Ellie Sass È molto intrigante Detto ciò gente Noi ci rivediamo A un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi